Nussini, il cioccolato Milka, si è fatto snack. Nussini, lo snack è leggero e croccante. Milka, il lilla che invogna. Domenica alle 22.30 a Mixe nel mondo un gradito ritorno, quello del grande documentarista inglese Anthony Thomas. Verrà il suo regno e l'inchiesta spietata e ironica sul mondo dei predicatori americani con il quale Anthony Thomas ritorna alla televisione. Appuntamento alle 22.30 domenica con Mixe nel mondo. Buonasera, Elliot Gould, Jane Ekman, Robert Redd, Ryan O'Neill, Lawrence Oliver, Sean Connery sono solamente alcuni dei prestigiosi interpreti del film Quell'ultimo ponte, diretto, un film di guerra diretto nel 77 da Richard Hattenborough. Nel lasciarvi alle sue immagini io vi auguro una buona visione e un buon sabato sera. Noi ci vediamo più tardi. Questo è Paolo e questo è Luca. Tutti e due difendono i colori della maglia azzurra e si sporcano così tanto che la mamma di Paolo deve lavare a mano la sua maglia in acqua calda. La mamma di Luca, invece, con Ariel bucato a mano e in acqua fredda. E così, partita dopo partita, gol dopo gol, i piccoli azzurri festeggiano la vittoria. Ma mentre Paolo è ormai un azzurro scolorito, Luca, con Ariel, ha difeso bene i colori della sua squadra. Ariel, polvere e liquido, fredda lo sporco, accarezza i colori. E adesso, vecchio mio, che lavoro fa un merito in pensione? Porta sua moglie in vacanza. Ah, già rimanisce pronta. Sai, la compagnia della tua vita. Non è cotone ma È soffice come cotone Soffice cotone Carta igienica cotonella, più che morbida Come dire, soffice Soffice cotonella L'intervallo è importante per i ragazzi. Possono dare un piccolo stacco all'impegno scolastico e mangiare qualcosa per ricaricarsi. Purtroppo, a volte, mangiano alcune cose che appesantiscono o nutrono poco. E invece, ci vuole qualcosa di nutriente, ma leggero. Sì, Kinder Brioche. Lievitata naturalmente, semplice e leggera. Ricorda le cose che prepari tu, mamma, e ha tanto latte e tante proteine. Kinder Brioche Dovi a sposare una come me. E ora... Dal cuore del bucato, Dash liquido spinge fuori lo sporco e riporta il bianco. Guarda che bianco. Per me è un'altra amicia. Collo, polsini e guarda il resto. Ecco perché mi ha sposata il tuo figliolo. Dash liquido e dosa Dash. Bianco fin nel cuore del bucato. Che schiuma morbida che hai. Per lavarmi meglio, carino. E chi te l'ha detto? Il lupo. Lo dicono tutti. I freschi delicati sono solo Vidal. Per fare di un vicino un vero gatto, ci vuole Kitekat, perché gli dà un nutrimento equilibrato al 100%. Tigre, sei bellissimo. Dopo Mamma Gatta ci pensa Kitekat. Deve essere papà. Cara. Un regalo? Cos'è quella cosa che puoi usare al posto dei soldi in tantissimi negozi? Cos'è? La bacchetta magica. Con questa paghi dopo un mese. Anche a rate. Cos'è? Se te la rubano, una telefonata e te la ridanno. Per averla si va in banca. O si prende il modulo per richiederla nei negozi dove vedi Banca Mericard. Brava. La nostra Banca Mericard. Banca Mericard. Praticamente più del denaro. Come Bicinet scioglie questo guscio che è di calcare, così Bicinet scioglie tutte le incrostazioni e le impurità del water. Quelle che si vedono e quelle che non si vedono. E io che usavo Bicinet ogni tanto solo per sciogliere il calcare, oggi lo uso tutti i giorni per essere sicura dell'igiene. Mi sento più tranquilla. Bicinet. Pulizia e igiene garantite ogni giorno. E uso anche Bicinet e tavoletta per vedorare il water 24 ore al giorno. Io distinto Shaco Brechis. Il nuovo Brechis. Sì, con le nuove ricette ancora più ghiotte. Una qualità eccezionale. E poi Brechis ha il gran misto carni e il gran misto pesce. Una vera pacchia per gatti-gatti. Brechis. Un piacere felino. AIDS. Oggi non esiste ancora una cura efficace. Ma per fortuna non è facile ammalarsi di AIDS. Dipende dai nostri comportamenti. L'AIDS non si trasmette con un bacio o con una stretta di mano. Scambiandosi un bicchiere o usando le stesse posate. L'AIDS non si trasmette conducendo una normale vita di coppia. Ma si trasmette attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Per questo è meglio evitare rapporti sessuali occasionali con persone sconosciute. E comunque in quei casi cercare almeno di proteggersi col profilattico. L'AIDS si trasmette attraverso sangue infetto. Per questo mai più siringhe usate. AIDS. Se lo conosci, lo eviti. AIDS. Se lo conosci, non ti uccide.